Buonasera da Davide Roy e benvenuti a questa nuova collana chiamata onde nell'anima. Come potrete già intuire dal nome non si tratta di video che tratteranno la materia della tecnica e dei materiali, bensì vuole essere uno sguardo a 360 gradi su quello che è il rapporto tra l'uomo e il mare, ovvero tra l'umano e la natura. Quindi uno sguardo sotto due punti di vista, quello spirituale e meditativo. E per spirituale non intendo le religioni dove ci sono i dogmi, le regole molto più rigide, così come per meditazione non dovete immaginarvi il guru in punta alla montagna con le gambe incrociate sull'Himalaya che fa meditazione. Ecco, spiritualità vuol dire il proprio rapporto dell'intimo con la vita, con il mondo esterno e meditazione fondamentalmente osservare questa vita, imparare ad osservare in maniera più naturale e istintiva possibile senza troppo l'utilizzo di pensieri e di ragionamenti dietro, in maniera più istintiva come fanno gli animali in natura. Questi sono due aspetti importantissimi, due aspetti che creano in realtà la parte umanistica della persona, quindi quella parte che ci può far crescere, che ci può far evolvere. Per cui questa collana di video vuole proprio cercare di mettere l'attenzione e portare nelle case di tutti e soprattutto di chi magari non ha la possibilità o la fortuna di poter avere un rapporto con il mare, di poter avere un'attività che lo mette in rapporto con questa meravigliosa forma della natura. Per cui cercheremo di raccontarvi le esperienze, le emozioni e tutto quello che ruota dietro questo meraviglioso mondo. Spero che questo argomento, questa collana di video, possa piacervi molto. Vi ricordo che sarà pubblicata, come questo video, sul canale YouTube della Roy Sub, chiamato Roy Sub Collection, quindi iscrivetevi, seguitici, faremo una playlist dedicata proprio alla sezione onde nell'anima e ci vedremo presto con i primi argomenti che tratteremo. Grazie a tutti e buona serata.